Allora Che cos'è Minecraft RTS Se vi ricordate Circa Un annetto fa Eeeh Non mi ricordo quando ho portato Minecraft che facevo il Dio greco Ok Dove praticamente io potevo controllare i villager e facciamo le varie cose Perfetto Hanno creato una nuova mod E a quanto pare è fatta molto meglio Ok Single player E creiamo subito il mondo Eeeh Si può fare in creativa Difficoltà penso forse easy Dobbiamo andare poi a mettere Data pack open pack Io c'ho qui il mio da Merock 007 Incredibile Bam Eeeh La roba di Minecraft con l'IA No è un sito È un sito Non c'è Infatti di base Non c'è ragazzi Di Minecraft dell'IA Un Il gioco Capito? Cioè tu stai giocando con l'IA E per questo era fuori di testa Quella roba Questo qui invece si è un mod pack che ho fatto ora io Poi ve lo droppo sul gruppo Telegram se volete Ma letteralmente scaricata la moda e l'ha installata Io ci ho messo altre due mod Giusto per le mod grafiche E tutto quanto Allora creiamo il mondo E adesso vediamo un pochettino se riusciamo a combinare Intanto Ditemi chat un attimo Aspetta io non ti metto la La Ok Ditemi chat Minchia avevo beccato un villaggio È perfetto Ok Due villaggi Allora Dobbiamo fare ragazzi F12 Cioè Cioè ma guarda che figata Cioè Poi possiamo aprire anche la mappa Possiamo vedere Le varie zone Spostandoci Con la mappa Cioè Bellissimo Ma ora che c'è già il villaggio Cioè io posso Basarmi sul villaggio Vediamo Vediamo Facciamo tipo tutto qua Allora Ok Noi abbiamo i nostri villager Abbiamo le nostre risorse E Ora che faccio Ah ok Allora Possono attaccare Costruire Trovare risorse Garrison Non so Significa E Stop Penso dobbiamo creare Il town center Ah ora lo possiamo pure ruotare Ma è figata Lo facciamo qui Posso fare in mezzo al villaggio No Vabbè lo facciamo qua Dai C'è Ma che bello È fatta molto Molto meglio Rispetto Ah proprio La mod Minecraft RTS Quello che abbiamo provato Un annetto fa Anche perché poi la cosa Oh ho sbagliato La cosa bella è che noi possiamo rituffarci In prima persona Un pochettino Alla Menor Lords Si vede che Hanno visto la cosa E quindi L'hanno fatta a mod Mi sa Ok Abbiamo Il town center Che è comunque Il cuore Della città Qui ma fa Attenzione Mo Noi abbiamo Tre Villagers Idle workers Stockpile Ah intanto Dove stanno Perché si Ho tre villager Ma Siccome l'abbiamo fatta E sto vicino Al Al villaggio Allora O li posso controllare Tutti No Tipo vedi Lui non posso controllare Ah infatti Non mi dà Le stats Ma qui c'è l'altro Aspetta Allora Stockpile Villager house Wait Ok Possiamo fare La farmetta Watchtower Baracchine Spruce bridge Vabbè Ma noi possiamo fargli prendere Intanto delle risorse Giusto Tipo Io scelgo Lui E ti mi dico Puoi prendere questo Sì guarda Mi dico Prendi le risorse Ecco qua E lui dovrebbe Iniziare a camminare Guarda che passa Proprio in mezzo Tutto quanto Dove prendermi Il coal Giusto Sì guarda Sta scavando Guarda 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 Sta mettendo 60 anni Non so se è normale Si però lo sta spaccando Molto lento A che ora Sono gli indu che ci lavorano Vediamo appena Ne spacca uno che fa Comunque sì In alto a sinistra Mi dice che le risorse Ci sono due che stanno lavorando Abbiamo cinque lavoratori Però quindi vuol dire Che forse loro stanno Iniziando a A ruolare Può essere Oh Le risorse Penso che le hanno Prese Eh Ma io non so se Tipo la cosa Del buildare Vicino al villaggio È stata top Allora Facciamo così Andiamo a mettere Tipo qua Questo qui tipo È il punto di storage Vedi Ma lo droppiamo così Mamma Ma che bravo Ok mi ha preso le risorse Vedi Le ha portate qui Quindi loro hanno Un piccolo inventario E poi devono Spostarsi Nelle Nelle zone Ok Sì proprio come Menon Roads Praticamente Ok Bella Tom's Grazie per i tre mesi Ok Perfetto Ok questo qui Per il cibo Ma domanda Garrison Che vuol dire Garrison Chat Ah è tipo Che li posso Selezionare Ma ecco scusami Se è tipo Io ora Gli dico a questo Attacca Questo Oddio Guarda è matto Con la spadina Guarda Stompa la pecora Stompa la pecora Vai Madonna E dai Spark Oh Ha preso la risorsa 125 Di cibo Alla faccia Ok Ok abbiamo Quattro lavoratori Adesso Allora Io direi Che facciamo Attaccata a questa La La farm Non ho abbastanza Risorse Cosa vuole 150 di legna Ma prendiamo la legna Capo Vai È un gestionale Praticamente Sì Tipo Antico Mage of Empire Per chi lo stesse pensando Sì 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 Da siamo Alla fine Sta prendendo il legno? Penso di sì eh Ma tra poco Vediamo se aumenta Allora lui è un altro Lavoratore nostro No Lui è un villaggio Mannaggia Forse abbiamo sbagliato Totalmente ragazzi A farlo vicino al villaggio Proprio perché Così ci confonderemo Mi sa Noi facciamo Pugliare le risorse Anche a lui No Vai Bene In the minecraft Più semplice Perché minecraft È difficile Matix Scusami Cioè Non lo so Bridge Ok noi pian piano possiamo poi Buildare la roba Però È un po' lenti a spaccare sto coso È perché Ma si possono potenziare Dite Cioè è potenziabile Ah vedi mi dice Le risorse che ha poi Nell'inventario Ok Ne ha 16 Eh vabbè Ma me ne riporti Nel Nel pisnello No raga No raga Stiamo griffando Ragazzi Sta smontando La farm No raga Stanno smontando La farm Del villaggio Ci ribildiamo Quello è nostro Cristo Oh Classic minecraft player Che ciula la roba Dal villaggio Noi mi sa Non posso aiutarli Quindi posso buildarlo Questo No non c'è abbastanza Risorse Ah vedi posso Far riprendere il cibo No no tu devi Pgliere il cibo Ok Buono Quattro di grano Guarda Te bro Vi è qua Via le risorse Ah eccolo Quello che non sta a fare Una sega Allora te Vai qua E attacca L'altro Dove sta Vabbè No raga Abbiamo allagato Tutto Guarda Stiamo depredando Il villaggio Vabbè qui ci andremo A buildare la nostra Di cosa Ma che dite Vogliamo ristartare Il mondo In un punto Dove non c'è Un villaggio Raga Perché se da me Ci Ci intortiamo Che dite Lo facciamo Dove non c'è Un villaggio Che secondo me È la cosa Migliore E non Non immaginavo Che farlo Nel villaggio Pensavo che Tipo I villaggi Diventassero Nostri Invece no Ok Perché se Ce l'abbiamo Fatta Mamma Ma Si spawna In mezzo All'oceano Bestemmio Però 3.000 euro Di computer Beh Un mondo Molto pesante Mi dicono Che dire Bello Qualcosa Mi dice Questo mondo Non va bene E che Lo andremo a fare Riavviando Anche il pacchetto Mi sa proprio Di sì Ti puoi aiutare In prima persona Se ci puoi tornare Ah davvero Proviamo Allora Forse perché ho messo Normal Ma non penso Ok Raga ma quante sub Mancano Per lo spoiler Della vanilla Io stasera Vevo sparerarvi Come funzionava Ci siamo Ok Allora Io posso trovare Una zona carina Dove iniziare Alla fine Alla fine Bello No c'è il villaggio Vicino Mannaggia Raga Doppio fabbro Ti tocco Sui siti di minecraft Ma che cazzo È tutto sto Ma tutti stifero Ma tutti stifero i rossi Ma che è il mondo Delle speedrun Oh Non scherziamo Ti ammazzi il golem È il mondo Delle speedrun Ammazzi il golem Ti dà l'altro ferro Ti fa il secchiello Ti pighi Non Non l'acqua I L'altra lava Prendi la lava Vai in questo E fai così poi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Con l'altro Bam Nether Flint Steel Bastione Fortezza Abbiamo il best seed Per le speedrun Mazzà che merda Ci ho sperato un attimo Un Un bel seed Per le speedrun E invece No Niente Scusate Seicento Settecento blocchi Mamma mia seed di merda L'ho quittato Perché tanto Non c'era un punto carino Anche dove iniziare Cioè non C'era il village Ok Non è che puoi iniziare Tutto in modo carino Praticamente Cioè voglio capire Proprio come arrivano Poi villager Cioè penso che dovrei fare Come nel vecchio RTS Che avevamo provato A fare le casette Con le case Arrivavano le famiglie Diciamo Come appunto Su Menor Lords Eccoci Oh Questa non c'era Non mi sembra male Come zona Questo Perfetto Perfetto Sopra la montagna Aspettiamo Aspettate Cesta Qua è perfetto Qua è pulitissimo Bello Si inizia Eccoli qua I nostri tre Villaggieri Bene Buildate Il Allora Qua c'è la miniera Facciamo che Il centro Città Lo facciamo qui Vai Dategli una mano Per l'amore di Dio Dai Che da solo No Anzi ecco Voi fate una cosa Tu No no Soltanto tu Tu piglia le risorse Te invece Ammazza questa Ok Vedete già Sì Stiamo già iniziando a capire Va 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 Vai Bene Che ce la fate Ammazzare la mucca Mamma mia Guardatola La mucca che scappa Questo la rincorre Guarda Minchini due Non fanno un neurone Guardalo C'è È perché regalano le sub Guardalo Per quello Dai Comunque Questa settimana Pensavo di fare una piccola maratona Dove ci giocavamo Tutta la storia di Black Ops Che ne avevamo parlato Anche l'altro giorno Di sta cosa Che ve l'avevo detto Che Se non durava tantissimo Si poteva pensare Che sta andando Però No 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 Qui Ma Ma perché Ah Ah perché avevo l'inventario pieno È intelligente Ok Allora Lo stockpile Lo possiamo fare qui Anzi Prima Si facciamo lo stockpile O il campetto Oddio la villager house Aspetta 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 Famo Qui la casetta Bomb No no Tu devi raccogliere Il pisa Qua Pensa lui a buildare Ecco E vedi A simple house Provide a population supply Credo quindi Ci dovrebbe aumentare Quanta popolazione Possiamo avere Massimo 120 In che immagini 120 villager Bordello Ok lui sta spaccando Tutto quanto Lui un po' Tino di risorse Le ha prese Ok Ho letto un attimo La roba del ponte Si può buildare il ponte Proprio per Farle andare Sull'acqua Praticamente O anche sulla lava Secondo che piglia fuoco Capo Dagli una mano qua Dai Molto carino Comunque Ma vediamo Nel dettaglio Cosa riusciamo a combinare Allora Le risorse ce le abbiamo Ma il campetto di grano Si riesce a fare Ti volessi fare Qua il campettino Di grano Proprio qua Accanto Alla casa dei lavoratori Non ho abbastanza Risorse Forse perché Devo prendere Un crop Da terra Come faccio a prendere Il crop Tipo Scavando Vediamo Ma io ne frega Nulla Se va qui Ma vedi 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 Che si risuca Quindi devo anche Addirittura Comandare Puoi uscire Dall'F12 Eccoci Ma vedi Che Quindi io posso Spaccare Per fare Per fare I veri I crop Solo che Se vedi In survival Si blocca Tutto No ma Secondo me I crop Li possono Prendere In qualche Modo Guarda che Figata Ha fatto La casetta Hanno fatto Poi qua Questo qui E la Town Hall Qui stanno ancora Spaccando il legno Ok Allora Però Per l'appunto Non me lo fa fare Perché mi dice Non ho Aspetta Non c'è abbastanza Legna C'è 93 Di legna Dai Dai una mano Pure tu Questo è preso Un botto Di risorse Vai Spacca sta legna Ecco perché Vai Vabbè Questo qui Si sta portando Tutta la legna 60 di legna Mamma mia Ok Bam Eccola qua A parte che Il cibo Non siamo messi Manco male Ma come arrivano Le persone Questa quella Questa Non sto capendo Come arrivano Perché Perché Di qua Mi dà Le stats Aspetta Che sto a fa Ah L'ho spawnato Con la Q Li spawno Vedi Però Averne di più Basta Comporta Che mangiano Di più Tutto quanto Eccetera Eccetera Ok Con la Q Non si può fare Nulla Con questo Non si può fare Nulla Ok Facciamo adesso Ragazzi Allora Il Dov'è Lo stockpile Lo mettiamo Qua attaccato Non ho abbastanza Ah Sempre legna Ma mannaggia la troia Prendiamo sta legna Voi tre Andate qui Piegate questo E ma scusate Ma i Ma le ripiantano Le cose Poi Questa è la mia domanda Cioè Loro Li vanno a ripiantare Ma qui Intanto Gli facciamo Piegare del cibo Che se non Ripiantano È un casino Stanno ammazzando La pecora Olè Mi faccio Prendere Altra legna Qua Si serve Praticamente Raga Un botto Di cose Stop Il Garrison E per penso Raggrupparli Ma vedi questo qui Per farli allenare What the fuck Raga Questi avevano preso Un botto di roba Comunque Ve lo dico 29 Questo è 53 Ma portate le cose qua A strons Anzi Ci avete Rato abbastanza Inventario Vai 88 Allora Li facciamo Concentrare Un attimo Sulla legna Ok Io scusate C'è tipo Un Ok Vedete RTS Controlli Ok RTS Help No Non c'è niente Di particolare Come faccio A fargli tipo Buildare Che ne sono La watchtower Quella che vogliono Io gli faccio Tipo Qui La watchtower O qua La facciamo Qui Bom Posso fare Questo E anche Lo stockpile Qua Te La guarda Questo Ok Sì perché Oppure Adesso In notte Vengono A rompere Nepal I mob Perfetto Questo Sta lavorando Sì che Stanno a Fa Fancazzo Ma Dategli una Mano Dai Prodette Da solo Ok Sono più veloci Guarda Tutto 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 Perfetto Perfetto Allora Io ora Non ne farei Altri Di Di Villager Ne abbiamo Tanti Ne abbiamo Sei Ma Per fargli Buildare Qualcosa Come Build Repair Che Gli faccio Buildare Così scava Tipo Allora Raga Ok Così Esatto Danno Tutti I materiali Ok Ok Questo C'ha 20 Di grano Io lo posso Far mettere Qui Giusto Ok Quindi Questo Qui Fa Sì che Tutti Hanno Il Cibo Infatti Io di Che L'ho Selezionato Tutti Li posso Tutti Quanti Fare Andare Al Centro Ora Però Una cosa Non capisco Ok Bridge Vi faccio Fare La Barracks La Faccio Fare Qui Non ce Abbiamo Le Risorse Guarda Che Velocità Guarda Guarda Bello Ok Ma vedi Posso Avvileger Arme De Wittax For Milicombat Pillager Queste Sono Le Risorse E Il Tempo Penso Per Averlo Non Penso Che Ogni 30 Secondi Si Mangia 150 Di Grano Che Penso Che Sì Possono Prendere Le Risorse Varie Cioè Tipo Adesso Io Faccio Così Se Faccio Q Mi sta Spando Un Indicator Vabbè Io intanto Piglio Queste Per Non posso Creare Delle Mura Ma Guarda Parking Tower Posso Andare a Fare Prove Bisogno Poi Della Legna Castello E Il Golem Ok Facciamo Sì Questi Due Prendono La Legna Li Smezziamo E Qui C'è Lui Il Bro Che Adesso Si Dico Ammazzami Sta pecora C'è Sta Sta Mucca E' Pazzo Lui Vediamo E A Cento Di Cibo Ha già Preso Io Da qui Dico Portalo Qua E' Fortissimo Che Faccio Pagliare No Deve Portarlo Qua Il Cibo Devo Prendere Lui Che Passava Qui Pio Esatto Adesso Anche lui C'ha Il cibo C'è C'era Lui 25 Vai Continuate Continuate Il cibo Qua c'è Oh E a sto punto Ne facciamo un altro Divindicator Gli faccio Prendere Aspetta che c'è sta pecora Qui Quasi Quasi Sai Non ha pagato Abbastanza Ecco La togliamo Dalla pilastra La mettiamo Un attimo Sottoterra A postos Ola Mono Ah Posso Selezionare L'unità Militare Che sono Questi Due Vabbè Certo Posso Mandare Entrambi A Combattere Mombe Non ce ne sono Per ora O è perché La prima Notte Per intanto Li mandiamo Contro la Peccora Ok Ah qui c'è Scusate Se permettete Prendiamo Ste Resource Ecco Voi se Permettete Posate Sto Cibo Pulito Hold Hold Position Garrison Attack Stop Ok Li mettiamo Qua Prendo L'oro Io Io dico Fatemi L'Arking Tower Facciamo Qui Allora C'è torre Torre No No Ci schiantano Contro E basta Stanno Billando Vabbè Ammazzate Sta pevora Dai Ma vi Dice che possono Oppure Prendere le risorse Stanno nei bauli E non lo so Rega Non lo so Per il telegramma Dei sub Punto Scrammati OTG C'è tutto Ah vedi Posso avere La strega Così Ok Quindi vedi Ogni villager Mi costa Un posto Letto E 50 di grano E me li fa in 15 secondi La strega Mi costa 100 di grano 100 di legna 100 di risorse E tre posti Letto E Stregona Ora posso Fare Il blacksmith E la libreria C'è il Sì La La biblioteca Ma Non ho legna Quindi Ti dico Mi faccio Visto C'è abbastanza Cibo Altro Coso Prendo Due di questi Li metto A lavorare Per il cibo I miei guerrilli Dove stanno Ah Nascosti là dietro Staffangiorno Ora Prendo L'oro Che lì Prendo tutti Olè E li mando Qua Una cosa Che mi preoccupa È il fatto Che loro Non stanno Piantando Gli alberelli Quindi Non mi cresceranno Altre cose Cioè Gli alberi Non mi piantano Virgi Scommettiamo 20 sub Che ti faccio il culo io Invece Sul gioco Pokémon Se sei così convinta Ma come Come li pianto Io non posso Piantarli O sì Allora ci giochiamo Uno spritz Virgi Esci dall'f12 Pem Già fa strano Vagarlo così comunque Ehi E ma Io non penso Che Cioè Devo piantarli Io Non penso Regà Cioè Come se Mi cittassi La legna Cioè Capito Non Penso Che ci sarà Un modo Per far Ricrescere Gli alberi Oppure Proprio il senso Del gioco Che tu devi dartene Poi in esplorazione Alla ricerca Dei Cazzi Vabbè Ammazza queste pecore Dai Per favore Allora tu non hai capito niente Tu vai qua subito A lavorare E Voglio Altri tre villager I posti letto ce li abbiamo Tanto Il cibo pure Aspetta Prima questa Che fai La lasci lì E voi Portate qui le resources Che mod è Si chiama Rain of Nether E Tipo una nuova versione di minecraft rts Una vecchia mod Cioè vecchio E ancora in sviluppo A metà totalmente diversa Questa è molto più carina Però ma l'impatto Vedo che è più carina Però vedi Il build Che posso Ribildare Non capisco Non te lo dice Vabbè Raga Blacksmith Lo schiaffo qui Bom Questi portate il cibo qua Dai Voi Pigliate Le risorse Qui Insieme al bro La strega Chiede troppo Abbiamo bisogno di tanta legna In realtà Raga Abbiamo finito la legna Quindi appena Allora adesso Finiscono Direi che Riva il momento Di portarli Alla ricerca Della legna Oh guarda Possiamo fare L'aeron golem Vuole quattro posti letto Eh piccolino Diamond Ex Golem smiting Low villagers To construct Iron golem Legna Legname Qua 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 Andate 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 Avete preso tutto Portatelo qui Le resources Eh Visto vi è abbastanza scipa Raga Altri tre villager Siamo pieni a tappo Poi andremo a fare un'altra casetta Oh stiamo ingranando Allora Loro Non Alla fine Non Non spaccano Naturalmente Perché loro Attaccano e via Quindi Te mi ammazzi Questo Poi Edi qua c'è l'altro Abbiamo cambiato Visual E che cazzo Però Si è nascosto Oh Oh Eccolo Attaccami Quest'altra Smucca Lui ha Cento di cibo A posto Portalo qui Oh Fammi attenzione Che Facciamogli spaccare questo Vai qui un attimo Tu Vai qui Ok Spacca questo A po' Allora Voi mi prendete Queste risorse Quindi adesso partite All'avventura A pigliare altro legno Lo facciamo prendere Dove però Io lo faccio prendere L'altro legno Qua sotto Vai Questo è pieno pure Droppa la roba qui No i sapling Non li raccolgono Arriva il carico di legna Regà Guarda Aspetta Vediamo se lo raccolgono I blocchetti non lo raccolgono Sono stronzo Vai Bene Altra legna A parte l'altro cibo Abbiamo 717 di cibo Ma per i sapling C'è come Non puoi Cioè non li puoi ripiantare Tu A meno che Scusate Loro nell'inventario Non c'hanno un sapling No vedete Ma se gli dico Tipo build Gli dico Build Che cazzo fa Niente E non sai che fare Build repair Non Non può Ah però Qua piglia Zucca Mi sa che cibo Sì vedi Vabbè Voi Spaccate la pecora Loro Loro hanno preso tutto Tornate qui Voi avete preso Tutto E Piegate questa legna Sarebbe un botto di legna Tanto Voi Tornate qua A posare l'area furtiva E via Invece li puoi comandare Solo dall'f12 O anche Dalla prima persona Davvero Io faccio Ma mi pare Non so se era una domanda Quella tua Ecco Ok Ah era una domanda No 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 Allora no Ma perché non posano Legname Oh Eh dai Ho quasi Mille di cibo Allora Uno lo possiamo Togliere da qui A sto punto Anzi Facciamo droppare la roba Basta Uno che farm Ok Allora Ti dico O mi faccio Un'altra casetta Con cento Ma accanto Non gliela posso fare Vabbè La mettiamo tipo La mettiamo tipo Qua Dai Oh Non me l'ha messa E io Mi ci chiudo In ste cose Da di una mano E povero Cristo Dai Noi dobbiamo aumentare La nostra population Morivano loro Guarda Eccoci qua Sì facciamo aprire la legna intanto Ok Ragazzi posso avere Altri villager Trento Vai Olè Cazzo ce ne fotte Ne abbiamo un bordello adesso Allora Ah vedi Lui c'ha La crossbow Dobbiamo fare un'altra casetta Dobbiamo fare Sì Un'altra casetta E facciamo attaccata qua Vai Così abbiamo 10 slot E possiamo fare Così Oddio Il castello 400 di legna vuole Dovevo partire Per piere 400 di legna Ragazzi I video Sono finiti Oh Ecco lì Ok Stanno passando la legna Allora Voi adesso partite Partire dall'avventura Minchia Ma non c'è un albero Madonna Fino alla sotto Devono andare Ragazzi Mi sa Vabbè Intanto Li facciamo prendere Questo qua Poi A Questi Facciamo prendere Questo Il castello Non so perché Mi intriga Abbiamo tutto il necessario Ma il blacksmith Possiamo sbloccare L'iron golem Ma si dai Famolo Facciamo fare L'iron golem Eh raga Ma penso Io ho fatto apposta Il fatto di Andartene in giro Poi aprire le risorse Pensi A proprio Non dico Lo scopo del gioco Ma Lì per lì siamo Perché tipo Adesso Serebbe da Pian piano Espandersi Verso questa zona Solo che Abbiamo avuto Sì Che la legna È molto lontana Beh oddio Abbiamo ancora qui Degli alberelli No Qui c'è anche L'albero grande Dai 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 Facciamo prendere Questo qua Qua loro Stanno già Lavorando Bravi 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 Ammeleron golem Che può Atta Che detona La pecora Ragazzi La detona Mamma Mi la detona Cioè Dici di attacco Raga La fa detonare Ciao Magic Ma Saltare l'aria La pecora Eccola Tunk Tunk Ola A po' Allora Qui stanno Lavorando No Sono dei minchi Non riescono a scendere Devo far rifare la strada Ecco Vedi No No Dovete Prendermi Questo Il legno Madonna Ok Qua abbiamo Un grandissimo Squadrone Che dovrà raccogliere Altrettanto Legna Vai Partite Minchia ma sono lentissimi Però guarda Mi 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 Ma non abbiamo lenti 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 Voi che No Voi Fermi non ci state Altra legna qua Dai Te che minchia fai? Niente Legna qui Lui non lavora? Male Alla farm Te che non lavori? Ehi Cucciolino vai qua Tu invece? Sta partendo Sta partendo Bene Guardi uno pira i risorse Però non è che sarebbe male Tu? Nella cazzo stai andando? Vabbè Vai qua Piglio queste tu? Ma non ci arrivano? Madonna rega Sono stupidi questi Noi proprio vogliono il ponte Eh no Vedi il ponte Non va bene Allora vi faccio scendere di qua questi Oh Cazzo è successo Cazzo è una botta Ah ok Sono loro che casano Madonna rega che minchioni Vai Vai 60 villager A pierne tronco Ce la fanno Questi Oh l'hanno fatto Qua Al lavoro Dove che minchia vai Guarda che stanno Lavorando Vedi questi Poveretti hanno difficoltà a scendere E gli do una mano Tom Guarda Siete arrivati Ma perché sali? Vabbè ragazzi Sono particolari Ok loro sono pieni Quindi penso che adesso Andranno verso il villaggio A portare il resource Mono La libreria però Non l'abbiamo fatta No ma io voglio il castello No rega Io voglio il castello Lo iniziamo a fare tipo Verso una zona Che ha senso Poi tipo Oh 600 di legna Guarda qui Guarda qui Castello E ma dove No secondo me Dobbiamo espanderci Sapete dove? Per di qua Lo facciamo qui Il castello Incominciamo ad espanderci No 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 Poi dovete Lavorare a questo Ah ma io sai che sono pieni Aspetta No 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 Vai 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 Voi quanti siete? Tantissimi Bene Laura dal castello Bro Bro Porta la legna Eh questi qua Ancora c'avevano Regali Inventario pieno 700 di legna Non male Bene 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 Guarda quanta legna Ora Voi prenderete Questo E cominciamo a Pian piano ragazzi Espanderci Verso l'alto È bugato È un pochettino Rotto mi dicono Quanto Ok si deve iniziare a aprire Tante risorse In qualche modo Dividiamo Voi andate Qua Poi Voi andate Qua Non scherzavo Sbagliato Andate qua Voi che rimanete Andate Qua Questi qua Stanno scavando Tu che non hai un compito Te ne vai Assolutamente A aprire La legna Qua Divertiti Farà 60 km Questo Poveretto Ok questi Che hanno finito Facciamo portare Le risorse E li mandiamo A aprire Altri minerals Questi qua Stanno scavando Bravi Ma che bravi Sì però posso dire Che qua Poco Buggata La visuale Vedete Si Buggano i blocchi Non so se è un'opzione Di qualcosa Qui No No Dove li ho mandati No Voi andate No Prendete questi qua Risorse Anzi no Li mando a pigliare la legna Vai legna Divertitevi Ma posso Ma posso pontificare Qua Schifo Ah vedi posso farlo Nell'acqua però Ah forse la cosa Di farlo su una montagna Mh 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 Vai 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 No no Attenzione Oh No È un trenino No ragazzi Di party Di party Che cos'è No ragazzi No Incredibile rag Devono salire per di qua In qualche modo saliranno Di qua Dev'è qui Per l'amor di dio Era una cosa Troppo multipli Regà No Questo è bloccato Ma posso fargli spaccare Scusa Build Cioè lui non può rompere Non si Questo niente È spacciato Praticamente Rimasto lì per sempre Ma i miei condottieri Dove sono arrivati Sono arrivati all'alberello No ragazzi Sono persi No guardali Qua sotto Ho 18 lavoratori Che non lavorano Indirigenza artificiale Non pervenuta Dai ma come faccio A portarli in alto Grazie mille Tanto caldo Per i 38 Così Aspetta Fammi girare La visuale Che forse Fanno Vabbè ma posso Buildare io qualcosa Tipo una strutturina Qualcosa In creativa È concesso Dalla pula Di sto gioco Mai Ma che cazzo Sta andando questo Ah ma tu Nel 66 Fratello Torna a casa Tu sono finiti gli altri Eccoli Vabbè ok Di qua possono salire Però scusate Ah non Lire di Di risorse Ma che ce la fate Dai Dai A po' Bene E ora Droppate le risorse Qui Vorrebbe avere Un bordello Veramente Vabbè raga Però Ma dovrebbero avere loro La via Fare la via Più Ma ha spaccato Mi sa che è stata una pecora Oh ce l'hanno fatta Dai che portano le risorse Eccoli qua Guarda Guarda adesso Le risorse che aumentano Minimo A 600 Dobbiamo andare Che cavolo 1.2 1.350 Perca troia Perfetto Sì Non riesco perché non c'è Quello che può Pientare gli alberi Cioè L'ho Abbastanza Limitante Come cosa Ok Allora Ma i miei Combattenti Dove sono Dove sono Dove sono Eccoli Ah guarda C'è anche il broski Vabbè No Ma per tu perché sei qui Io ancora Ma perché Ma perché Ma dico io Perché Ma poi io Scusate Io adesso sto Raccogliendo Risorse Ma Non dovremmo Fortificarci Arrive Il nemico Robesimili O la moda Ancora Non prevede Questa cosa Perché allora So che si può giocare In multiplayer Vabbè Raga Questo qui Ho deciso Che non vuole più Tornare a casa Si può giocare In multiplayer Però Penso ci fosse Degli NPC Che Ti provano Di attaccare No Credo Allora Dai a menzionare Che ascolto Un vocales Dai in un attimo Che ascolto 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 Ok, riaccomi Oh, niente Raga, mi sa che lui è spacciato Ok, allora Prossima tip Per l'Emerade del futuro Per una prossima giocata di questa mod Evitare le montagne Managgia la puttana Ma io do una mano io in creative Questi sono full, no? Per niente Ma spaccate, lavorate Ma che svate? La vedo male La vedo malissima Ciao Ricky La vedo stramare sta cosa Vabbè, abbiamo un bot di risorse Allora No, ho sbagliato Cristo santo Non c'è un modo per Portarli tutti in un punto Verro, no? Allora Noto qui ragazzi Grande difficoltà Ma Prendono per il culo Cioè mi avvicino Diventano intelligenti Facciamo la stradina No scusa Non volevo In realtà sì Allora A posto Raga, a prova di villager questa Ok Questo qui che è bloccato qua Sei libero di andare Vabbè però sei stronzo Vai Eh, te mi dispiace ma Te pure sei abbastanza Che bello che è andato Com'è sto gioco? Ma questo qui è carino Soltanto che Cioè, ora ho farmato veramente tanto Ma non c'è una sfida, mi sa Ora gli sto buildando io un attimo qua il percorso Perché Se no è Infattibile come cosa Cioè, io penso che avessero l'intelligenza artificiale Come l'altro RTS Dove loro potevano farsi pillar, scavare Invece non lo fanno Ok Oh, qui la scalinata È fatta praticamente La sto facendo proprio A prova Di stupido Perché qua ho paura Che proprio si bloccano l'oro Capito Che dicono Ma sì Non scelgo il blocco dove posso saltare Scelgo il blocco dove non Posso saltare Perché no? Dai ce la faranno Che cavolo Posto Vediamo quelli qua sotto Minchia, li ho fatti camminare veramente tanto lontani Vabbè che questi qua Sanno qui Ok Oddio, là sotto c'è veramente un pillager outpost Ok, rieccoci Allora Penso loro siano pieni Li riportiamo qua Ok Stanno camminando Poi Il villager qua bloccato A tutti questi Io li posso portare Qua Loro stanno andando Ok Adesso anche lui Rega ma sono idioti questi Scendete Io la salite E via Oh Se non seguono la scalinata Sta funzionando Dove sta andando quello? Bravo Ok 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 Dai da buono Buono A posto Posso bilgiare le altre strutture Così c'è tutto La libreria La facciamo qua Olè Sì ma quasi quasi Sapete che pianto io Un pochino di legno Perché è un po' Un po' così come cosa Sono arrivati quelli lì? Mi sa di sì 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 sono arrivati Per forza 22 che non lavorano Eh Dove stanno tutti? Questa è ancora acquista Eh Ok Ce l'ho tutti qua Raga Cinque che non lavorano Dov'è? Questo è un porco Dove sono? No vabbè raga Ma sono ancora a trombà Ma scusa Stag Si Non Ah 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 Ok ce l'hanno fatta Tranne lui Lui è speciale Lui è deciso Ma sì Faccio la sala alternativa Perché so così Faccio l'artistico Ok Allora Vexis summon Unlock the ability to evokers To summon Vexis Ah vabbè sono sempre Sono tutti power up Per comunque un combattimento Ma raga Non c'è altro che posso fare Sì posso fare L'altra casetta dei villager Tipo la faccio sempre qua Ma mi sa che L'abbiamo completato Cioè Ora li proviamo a portare Nella hotpost Sì sì ma infatti Lo sapete cosa faccio Guardate Ma qui Faccio spawnere Un ravagers Eh che mi serve Proprio spazio Della casa Tanto Minchia buildate Come non ci fossero Domani Ok Altra casetta Qui Madonna Altra casetta Qui poi Sì però Dividete di caso mai Ok Nel mentre Io ne approfitto Faccio questo Guardate Dov'è Sapling E buon meal Vai Dov'è Dovrebbero mettere La feature Che Possono piantare I cosi Se no come faccio A farmare Se mi è in giro Ma a lungo andare Minchia Devo farmi chilometri Che fossero veloci Sicuramente sto sbagliando qualcosa Non lo so Non lo so Ok Ok A posto Voi Quest'albero Voi Quest'albero Pia dalla legna Voi Quest'albero Qua Ravagers Ne famo Due Tu Lavora qui Clash of Clans Minecraft Ma Ci fossero i nemici Ancora ancora Poi Sponiamo Due di questi Facciamo Le accette in diamante I villager Che possono buildare Niente Perché non c'ho più Risorse Però vabbè Municipio livello 11 Non c'è un livello Purtroppo E' stato figo Niente Municipio maxato Ragazzi Ma come si stanno Mangiando L'albero Oh no no Oh no 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 i golem smiting Ma sto qua dentro i quattro Non sono i lavoratori Mamma mia Guardali Oh Allora se il bestione È sponato dentro Ok esce Ok Voi A raccogliere La legna Ma portano un botto Di legna Guarda Guarda quanto sale La legna Bene Bene Alla faccio La strega Vendicate il pillager Ma famo anche un pillager Ma si dai Ho due bestioni Abbiamo fatto Legno Mangiato Vai facciamo Questo E questo Praticamente Qui c'è Il capitano Che Dà più velocità Alla Alla Ciurma Mentre quello sotto Possono loro cavalcare Il 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 Wow Ok Me l'aspettiamo Qua abbiamo la strega Ok Posso scegliere Ma vedi Ah c'è pure il tempo Di ricarica 10 secondi Figo Ok Allora I miei combattenti Dove sono Eccoli Devi qua Tu vieni qua Ok Tra poco C'è smiting Golem Perfetto 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 Bo Raga Secondo me Ce la facciamo Adesso Devo A stare Perfetto Posso Posso far Spawnare I vex Dai Non c'è Abbastanza Cibo Niente Va bene Ma ora Come funziona C'è Ancora sta facendo Questo Ok E qua E qua I bro Sono Ancora un pochino Ah ma Si sono Ah ma si Ligerano col tempo Può Può essere Andate qua Pigliate Pugliate Pure voi Qua Andate qui Prendete Questi Voi andate qui Prendete Questa E qui che punto siamo 65% Ciao Tutto bene Tutto bene Sto Trajardando Su Sto Cosa Ma guarda che Possiamo Proprio Vedere Tutto il resto Del mondo Guardi che Queste sono Altre Risorse Comunque Quindi Forse Più Ah ma Non è Che tipo Andando in Giro Con la Mappa Noi Troviamo Tipo Una sorte Di Dungeon Qualcosa Che possiamo Attaccare No Mi sono Perso No L'ho Annullato Che ragazzo Stanno Mi sono Perso No Raga Mi sono Perso No Tutto bene Tutto bene Minolino Voglio Tutto a posto Mi sono Perso Raga Oh Unchia botta Di culo Ho trovato Ok Allora Posso promuovere Un illager Non ho capito Ma questo è un indicator Pillager E chi è Lillager Scusatemi Pillager Indicator Ok Va bene Adesso Più veloci Figata Ho 95% Vediamo Partiamo All'attacco 98 99 100 Ok Come io lo faccio Cavalcare Non penso Dovevo fare Questo Cioè Ho fatto La cosa Che possono Cavalcarlo Sono stupido Io Che figata Ok Faccio Un altro Pillager Che me lo fa In 30 Secondi E via Ma la c'è sotto La camera Non la metti No No Stavolta Non ce l'ho Eccolo 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 qua Vieni qui Tu vai subito qua Sopra di lui Io ora Con La notte Andiamo All'attacco Del pillager Outpost Partiamo Vedo che sono anche Abbastanza veloci Ecco qua ragazzi Il nostro obiettivo Sono poco di risorse Dovremmo buildare Il nostro primo ponte No Era un golem Poveretto E lentissimo No Tu golem Statene via Stai qua Dai Torna a casa Per favore Guarda Come vanno Veloci Vai 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 Sì ma mi sa Non ci stanno I nemici Cioè io non sto Avvenendo nemici Quindi non vorrei Che tutta la cosa Poi fatta Per il multiplayer Bo Vediamo Allora Ora Ho un'enorme domanda Non è che Loro Siccome non c'è Il villager Non possono Buildare Naturalmente Quindi non è che Non possono superare L'acqua Mi porterò qui E vediamo Cosa accadrà Ok Loro Possono Superare L'acqua Lenti Ma Sì Eh Ok Guardate qua Lui Stupido Lui Lui Sa nuotare Lui no Lui Non sa nuotare Ma con una bella spinta Ce la fanno tutti Guarda 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 La strega Ha strani gusti No raga Tocca portare qua Di villager Ok Sono partiti Mi sa Qua sono arrivati Però Vediamo se Riesco Un pochino Con La forza Dell'amicizia Dove sono i villager Ancora Madonna Raga Niente Come un'entitivo sfound No No Non posso cittarla No Ah Ecco E niente Eccoli Guarda Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimi Ha avuto uno sprint così Carino Vai tocca buildare il ponte Ah vabbè ma dai Ma che cazzo vuol dire Cioè si builda Ma già sono arrivati praticamente Ma saperlo Guarda Guarda La cittano Magari nemici sono nel nether Ma non c'è un modo per andare nel nether Cioè E tu puoi fare anche la versione Praticamente dove sei cattivi Ma eh Penso che sempre là siamo Buildate Buildate Anche perché Non possiamo scavare Sottoterra So che non c'è nulla Perché è fatto apposta Sottoterra è vuoto Quindi Eh ma non Non posso fare nulla Ma Non è che sto in peace Ma easy Vabbè metto hard Non lo so Eh ma infatti Ma Non posso combattere Contro Degli NPC Non c'è questa Possibile Vabbè la strega ragazzi Ha deciso che non vuole giocare Con noi praticamente Io qui ho sbloccato tutto E infatti Non posso fare nulla Da come so Sottoterra è vuoto Vedete Ci sono soltanto Ste pots Qua Ste buca Cioè le cose Ci sono fatti Questi qua Poi è tutto vuoto Sottoterra Però è fatto così Il Il modpack Quindi non so Perché nel nether Cioè io non penso Tipo posso fargli Accendere Il nether Il build repair Non lo sto capendo Cioè Chi mi attacca Non le devo fare Un comando Io No non c'è Non c'è niente Si vede che forse È ancora in versione Sperimentale Bene Quindi ancora I mob ostili Non ci sono Mi sa Veniamo Ci sono tre Appunto Se puoi giocare Puoi fare Multiplayer Single player Tutorial Vabbè Fog of war Ma non è che è questa Fog of war RTS Fog Enable You are about to Enable fog of war For all players This is an experiment Feature with Several issues All players with Optiframe will crash E non Ma fai leggere tutto Mico Chunk Rendering bug App cpu Usage Ma ma che cazzo Me ne fotte Bene Cos'ho appena Sbloccato Guarda Guarda la mappa Che no No Ho capito Ti fa vedere Soltanto La zona Che tu stai esplorando È la mappa E basta Però non c'è un modo Per attaccare O O fa qualcosa Peccato La strega Non verrà qui Peccato Ma non è che Il tipo Devo fare Così Attacca Questo Forse lo rompo No Io ne fotte Una minchia Oh Oh Ah attaccano L'alle qua dentro O rompono No Niente Possiamo andare Ad attaccare I cavalli Cioè gli attacchi Ci sono È tutto Ma non c'è Contro chi Farli Se lui è Dove In qualche pari Ti stai chiedendo Se puoi fare Gli attacchi Le strutture Sulle mappe Se è quello Il problema Posso giurirti Un video Su youtube Dove l'ha fatto E dimmi Ma il fatto È normale Che non C'ho nemici Ho dovuto fare Qualche comando Per Dire Dai Posso giocare Adesso Oh yes Attacca Attacca la pecora Porca Troia Esplosa Attacca la pecora Ottimo Quello C'ha la balestra Esplosiva Ma è matto Ma è folle Il picciotto Ehm Unice Attacca Un avamposto Il pillager E fra Gli ultimi Video Oddio Oddio 15 Aspettate che Un attimo Devo Ok Ok Per ora qui Lui lo sta facendo Come abbiamo fatto Finora noi E qui sale Tonton Tonton Questa suona Ma da cosa Ok Ma Ma perché E lui Perché Ma aspetta Lui perché c'è Sto punto interrogativo Io questo simbolo qua Non ce l'ho Allora O è perché Ha cambiato la mod Aspetta Lui sta giocando Il tutorial Lui sta giocando Il tutorial Mi sa E la mappa Del tutorial Vedi Perché Gli spiega Le cose E infatti Gli spiega Come fare Se non ho visto Ci sono altre 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 strutture Ma anche Altre unità Mi pare Ho visto Una strega E le poker Vediamo un po' Altre unità E infatti Vedete che c'è Questa struttura E quindi Non c'è la Ah Penso Siano strutture Della mod Scusate No Ok Vedete Non Non c'è Non c'è Il niz Della mod Ma Vabbè Nel senso Attaccalo Prima che muore Da solo Attaccalo Attaccalo Vabbè No Non penso Nell'opzione Dovevo attivare Raga Non credo Perché c'ho Controlli Fog Help Lock Reset Surrender E sinking Ma se Prima di andare Lontano Certo ci sono Delle strutture No Ho fatto il comando Per il locate Praticamente Non c'è Non ci sono Mi sa Posso farlo Prova Ma C'è qui c'è Dottura un altro Villaggio C'è non Non vedo No Non vedo Altre strutture Raga Oddio Perché c'ho Il mouse No Vedete Non posso Girare più a destra Perché è finito il mouse Davvero Ok Peccato Io pensavo Che fosse Completa La mod E invece A quanto pare No C'è Il tutorial C'è tutto Perché Sarà tutto Postato Nel mondo Cosa fare Qui invece Forse Proprio con la mod Tu Te la giochi Normalmente Anche io perché Scusate Time set Night Raga Non spavano I I nemici Cioè Vedete Io Non ho Nemici Posso fare La prova Adesso A fare Un summon Zombie Ok Prendo lui Dico Attacca Lui Lo Stompa Ma Finisce Lì Peccato Peccato Raga Vabbè Fatemi sapere ragazzi Casomai Anche poi sotto Al commento Di Embrother Live Un secondo Che ve ne pare Cosa ne pensate Un attimo E casomai Capiamo Cioè Serebbe carino Provarlo Casomai A questo punto Multiplayer Mi informa Come funziona Multiplayer Casomai Posso proporlo Anche lo stesso MK Se vuole provarlo Multiplayer Ti lo posso Non richiedere E via No Penso che Il tutorial Sia fatto Appositamente Ti fa vedere Cosa puoi fare Per poi Farti il tuo mondo Penso che sia Quello Ecco Lui mette La No non c'è Vabbè Questa qui La mod Anche perché Cioè Qua Laboratorio Penso sia Un'altra cosa Ok Questo io so Tutte le robe Per Però Non lo so Raga Mi informerò Mi informo E vedo un attimo Vedi infatti Per giocare Ok Tu starti la partita FF12 Inizia tutto quanto La partita Finisce Quando Tutti i player Sono sconfitti Tranne uno E infatti Un player E sconfitto Quando la sua struttura E totalmente distrutto Oppure Fai sul render Punto Se no C'è il tutorial Che qua Ti porta Poi al A scaricarmi Il tutorial Praticamente E basta Vabbè dai Dai Si andrà A vedere Raga Peccato però Veramente peccato A po' Ragazzuoli Mi sa che Vi saluto io A sto punto Dai vi saluto Vi saluto